Ve l'avevamo detto che era solo questione di tempo. Detto, fatto, Charles Oliveira contro Dustin Poirier è ufficiale per UFC 269. E allora è confermato, il match valevole per il titolo pesi leggeri sarà il main event di UFC 269. Card che ricordiamolo si terrà l'11 dicembre e sarà l'ultimo preview, l'ultimo evento numerato della UFC per il 2021. Sappiamo infatti già anche la data di UFC 270 che si terrà già a gennaio del 2022, per la precisione il 22 gennaio salvo cambiamenti improvvisi. Quindi appunto saranno Dustin Poirier e Charles Oliveira a chiudere l'anno in bellezza. Fra altri Poirier aveva anche aperto l'anno dal punto di vista di pay per view nel secondo match con Conor McGregor agli UFC 257. Quindi per The Diamond potrebbe anche un po' chiudersi un cerchio in caso di vittoria del titolo. Sarà un match veramente pazzesco, un match up stilistico meraviglioso. Entrambi sono completissimi, ovviamente il punto di forza di Poirier è lo striking, il punto di forza di Oliveira è il ground game, ma entrambi si sono dimostrati assolutamente fighter top da ogni punto di vista, in ogni ambito fighter completissimi. E adesso ragazzi non resta che goderci l'attesa e soprattutto l'11 dicembre, nella notte tra l'11 e il 12 dicembre, goderci il match. Iscrivetevi al canale, lasciate un like al video, fateci sapere per chi tiferete soprattutto, perché ci interessa tantissimo sapere appunto chi sarà il vostro favorito, chi sarà quello che volete vedere con la cintura attorno alla vita a fine 2021. E ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, grazie. Grazie.